E questo è il pranzo, ci è arrivato tutto alle 5, quindi non so come faremo. Qui c'è l'acqua, tipo questi contenitori qua, questi qua, là c'è del toscusso, poi qui dovrebbe esserci la cheesecake, che è tipo il dolce, e questo dovrebbe essere del pollo con verdure, chili, riso, ecco sì, riso, questo qua devo far capire che cos'è, qua ci sono dei crostini, delle salsine, e credo del pane, e poi ti hanno dato la Coca Cola, che è bellissima, molto molto carina. Ho chiesto del ghiaccio e mi hanno dato anche del ghiaccio, sono stati veramente gentilissimi. Ok, bene, buon appetito!